Il presidente della Commissione Territorio della Regione Abruzzo, Pietrucci, con il vicepresidente della Giunta Lolli, Luciano Perazza, Gianni Lolli, Daniele Placidi per il Comune e Mauro Marchetti, hanno incontrato a Roma il presidente del CONI, Giovanni Malagò. Si è discusso della candidatura dell'Aquila a organizzare la ventitresima edizione dei campionati mondiali Master di Atletica, in programma dal 16 al 31 luglio del 2022. La candidatura, sostenuta dalla Regione, sia nella fase iniziale che in caso di aggiudicazione, con un investimento di oltre 300.000 euro, è stata presentata il 29 maggio scorso, nei giorni della visita in città della delegazione internazionale. La scelta ci sarà a settembre a Malaga, l'Aquila dovrà vedersela con la finlandese Tampere e la svedese Gothenburg. Pietrucci spiega che l'evento rappresenta una grande opportunità, sono previste circa 9.000 presenze di soli atleti, a cui ovviamente vanno aggiunti i componenti degli staff e il pubblico, un'inizione di energia, una vetrina turistica eccezionale per l'Aquila e per l'Abruzzo. Malaga si è mostrato partecipe ed entusiasta per quella che è una grande opportunità per tutto il paese ospitare un evento così prestigioso di livello internazionale.